Insalata di arance e finocchio con miele e mandorle Questa insalata di arance e finocchio con miele e mandorle è un piatto leggero ma saporito, ideale per un pasto veloce e nutriente durante il mese di gennaio. È un'insalata fresca e delicata, che esalta i sapori di arance e finocchio, con l'aggiunta di un tocco di dolcezza grazie al miele e al croccante delle mandorle. Gli ingredienti per la preparazione dell'insalata sono Arance Finocchio Miele Mandorle Olio extravergine di oliva Sale Pepe La preparazione dell'insalata è semplice e veloce. Lavare accuratamente le arance e affettarle sottilmente. Tagliare il finocchio a listarelle. Mescolare le verdure e condirle con olio extravergine di oliva, sale, pepe e miele. Disporre l'insalata in un piatto da portata e guarnire con le mandorle tritate grossolanamente. L'insalata di arance e finocchio con miele e mandorle è pronta per essere gustata. Si può servire come antipasto, come contorno o come piatto unico. È un'ottima idea anche per un buffet o un picnic.